Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio. In questo video continuiamo a vedere gli elementi che possiamo inserire all'interno dei form. In particolare andiamo a vedere prima i radio button che permettono all'utente di selezionare solo un'opzione di tante, ma andiamo a vedere come si creano. Ovviamente rimaniamo all'interno del nostro form, sotto a questi vari input andiamo a creare un nuovo tag input. Impostiamo il type su radio appunto perché stiamo creando un radio button, quindi un bottone rotondo e gli diamo un name uguale a linguaggio trattino basso preferito. Ovviamente come vi ho detto già lo scorso episodio questo nome potete sceglierlo voi. Inoltre aggiungiamo l'attributo value e lo mettiamo uguale ad html. Questo attributo darà un valore di default al nostro radio button, in questo caso il valore sarà appunto html. Quindi possiamo chiudere il nostro tag input e andiamo a creare poi anche un tag label. Quindi come l'altra volta lo andiamo a creare sopra l'input, quindi scriviamo label, mettiamo l'attributo for uguale ad html e questo valore si riferisce ad un attributo id che deve essere presente nel tag input. Quindi chiudiamo il label e andiamo ad aggiungere l'attributo id qua di fianco al nostro type. Quindi mettiamo id uguale e deve essere scritto esattamente uguale a come l'abbiamo scritto nell'attributo for. Quindi io copio e lo incollo qua tra le virgolette. Mentre tra i due tag label, come l'altra volta abbiamo scritto password per indicare che doveva inserire la password e username per indicare che l'utente doveva inserire l'username, andiamo ad inserire html. Andiamo anche a creare un break sopra questo tag input e un break sotto per creare uno spazio. Se salviamo e ricarichiamo la pagina, ecco qua che è comparso il nostro radio button html. Questo html viene dal tag label, da questo html. Infatti se lo cambiamo in una scritta a caso e ricaricando la pagina vedete che cambia anche questa scritta. Quindi rimettiamo html e vedete che la caratteristica del radio button sta appunto nel fatto che è un pulsante rotondo ed è l'unico che possiamo selezionare tra tanti radio button. Ovviamente adesso ce n'è solo uno e quindi possiamo selezionare solo questo. Quindi torniamo nel nostro codice e andiamo a copiare queste due righe, quindi questo input. Lo andiamo ad incollare sotto il nostro break. Questa volta andiamo invece di scrivere html mettiamo un'opzione per il css, quindi scriviamo nel label for, scriviamo css. Come avevo detto questo valore deve essere uguale al valore dentro id, quindi anche qua andiamo a incollare css, mentre come value mettiamo css in maiuscolo e mettiamo css in maiuscolo anche tra i due tag label. Il name lo lasciamo sul linguaggio preferito, dato che entrambi queste opzioni si riferiscono allo stesso name e linguaggio preferito. Poi questa variabile la potremmo usare ad esempio con javascript per mostrare all'utente l'opzione che ha selezionato. Ricaricando la pagina ecco qua che compare anche css e la cosa particolare dei radio button è che se io seleziono css non posso poi selezionare l'html. Infatti se premo su html mi deseleziono il css per poi selezionare l'html. Io vado a creare un altro break e vado a copiare queste due righe e incollarle. Qua metto javascript, quindi cambio anche il value, cambio anche l'id, metto javascript in minuscolo, lo copio e lo incollo anche nell'attributo for. Ed ecco che compare anche il radio button javascript. Bene il secondo elemento che volevo mostrarvi è il checkbox che permettono invece di selezionare una o più scelte contemporaneamente. La sintassi è molto simile a quella del radio button. Infatti andiamo a copiare queste due righe e la differenza sta nel tipo di input. Quindi invece di radio andiamo a mettere checkbox e andiamo a cambiare anche il testo di questi pulsanti. Quindi qua metto ho una bici, lo incollo anche come value, come name stavolta non metto linguaggio preferito ma metto scelta. Come id metto bici e dato che l'id deve essere uguale al for metto anche nel for bici. Poi vado a copiare, lo incollo altre due volte, qua invece di mettere una bici metto ho una macchina. Quindi macchina lo dobbiamo incollare anche nell'id, nel for e qua al posto di mettere come value ho una bici metto ho una macchina. Invece nell'ultimo checkbox vado a mettere ho una barca, quindi mettiamo for uguale barca, id uguale barca e invece di mettere value ho una bici mettiamo value ho una barca. Se salviamo e torniamo nel nostro browser, ecco qua che compaiono tre checkbox, qua non c'è lo spazio siccome non ho messo il break. Ok ora ho messo il break, vedete che posso selezionare più di uno contemporaneamente. Quindi io posso dire sia che ho una bici che ho una macchina o una barca o semplicemente ho solo una bici o una macchina. Bene se questo video vi è piaciuto lasciate like per supportarlo, commentate come al solito per qualsiasi dubbio domanda e noi ci vediamo ad un prossimo video.